Ad agosto l'Istat stima per l'interscambio commerciale con i paesi extra-UE un aumento su base mensile per le esportazioni e un calo per le importazioni. L'incremento delle esportazioni interessa l'energia, i beni intermedi e i beni di consumo non durevoli. I beni di consumo durevoli e i beni strumentali registrano invece una diminuzione. Dal lato dell'import la flessione è più intensa per i beni intermedi e i beni di consumo non durevoli. Ad agosto le esportazioni sono in diminuzione su base annua, meno 1,4%. Qualità, capacità innovativa, velocità, sostenibilità e copertura globale della fornitura. Sono questi gli elementi principali che hanno guidato l'assegnazione dei Supplier Award 2019, il riconoscimento che Pirelli assegna annualmente a 9 degli oltre 10.000 fornitori della propria catena a livello globale. I Supplier Award premiano le aziende che si sono distinte nel rendere la supply chain Pirelli ancora più sostenibile, innovativa e qualitativamente eccellente. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel secondo trimestre l'indice dei prezzi dell'abitazione, acquistati dalle famiglie per fine abitativi o per investimento, aumenta dell'1,3% rispetto al trimestre precedente e diminuisce dello 0,2% nei confronti dello stesso periodo del 2018. La lieve flessione tendenziale secondo l'Istat è da attribuire unicamente ai prezzi dell'abitazione esistenti, che registrano una variazione negativa pari a 0,4%, in attenuazione dal meno 1,3% del trimestre precedente. Poste Italiane e Money Farm hanno siglato un accordo di partnership per l'offerta di innovativi servizi di investimento digitale e di gestione del risparmio destinati ai clienti di Poste Italiane. La partnership è in linea col piano strategico Deliver 2022, contribuendo allo sviluppo della piattaforma controllata, aperta, di prodotti di risparmio gestito, proseguendo nel processo di trasformazione digitale del gruppo. Si sono aperti a Tianjin in Cina i lavori della terza edizione del Forum PMI, organizzato nell'ambito del Business Forum Italia-Cina, sotto la presidenza di Casta Depositi e Prestiti e Bank of China, in coordinamento con il MISE e il Ministero del Commercio Cinese, e con il supporto di Confindustria, Agenzia ICE e ABI. L'evento rappresenta l'occasione per sottolineare il ruolo di CDP nello sviluppo della collaborazione finanziaria e industriale fra Italia e Cina, e per promuovere nuove opportunità di business per le piccole e medie imprese, alla luce dell'ampio potenziale offerto dal mercato cinese.